Ciao a tutti amici, sono Eppi, bentornati su Mega Wow! Come va? Oggi abbiamo un'altra sfida, una roba mai vista prima su YouTube Un'idea originalissima che mi è venuta in mente qualche giorno fa Voi non venite a dirmi che copio PewDiePie? 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 Come fa VJ, eh? Ma prima, un annuncio importantissimo! Abbiamo un vincitore! O meglio, più vincitori! Ora annuncerò i vincitori dei giveaway che ho organizzato insieme ai miei amici Allora, per il TP Team 943 4S14 Ma che nomi hanno? Per il Team Charlotte Angela TV Tamila Per il Team Cinzia Giusy Shortino Brava, brava! Per il Team Lilla Federica Sword Per il Team Gioca e Impara Unicorn Creation Ma se lo io! Raccomandati! Comunque metterò i nomi anche qua da qualche parte E così che li possiate leggere Perché io non so se li ho detti bene Se siete tra questi contattatemi alla mia email happy-mega-wow.it Che metto qua sotto nella descrizione del video Così potrete ricevere il vostro fantastico premio! Mi raccomando! Tornando a noi, invece, cosa faremo? In pratica, guarderemo dei video buffi insieme e bisognerà cercare di non ridere Per rendere più difficile la cosa terrò in bocca dei coriandoli Così, se rido, mi cadono tutti Voi guardate tutto il video e lasciatemi un commento se siete riusciti a superare la sfida E lasciate un like se anche a voi piace ridere È il momento di iniziare! Cuffie! Naturalmente, ragazzi, non posso dire niente perché se no mi cadono i coriandoli dalla bocca Non mi è seduto Non devo ridere Non devo ridere Ho riso, no! Scusate Non ce l'ho fatta Ancora, ancora Altri coriandoli, ragazzi Scusate Ho fatto un disastro Ho visto il cane che sorride Che devo ridere Che bello Gatto Scusate, scusate Ho riso Ok, prometto che mi impegno Mi fanno morire i gatti Quando cercano di trovare delle cose Guarda come rimane con le giappe Sto facendo questo cane Guarda come si gratta Come si è bagnato tutto Cotto col muso Nello spiro polvere Questo cane Come balla Non resisti, non resisti Non devo ridere Cale che mangia l'auguria Non devo ridere Oh, che fatica Che fatica Come balla la mascella Come è seduto questo gatto Ma la mascella No, non devo ridere Non devo ridere Devo trattenermi Non rido Non rido Non ce la faccio Ah 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 3 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 E va bene, ho perso. Mi sono anche impegnato, ma è più forte di me. Non riesco a trattenere le risate. E voi? Avete vinto oppure avete perso? Volete che ne faccia altri di video così? Bene, lasciatemi un commento se volete che ne faccia altri. Ah, a proposito, voi questo lo sapete fare? Bene, seguitemi su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!